La proclamazione dello stato di emergenza da parte del governo arriverà solo ai primi di settembre. La Lombardia è ancora in attesa, dopo la tempesta di un mese fa che si è abbattuta sulla regione. Più di 2 miliardi di danni, 287 comuni colpiti, 4 vittime, questi i numeri del nubifragio. Con pioggia, grandi nei vento. A Milano riaprono lentamente i parchi pubblici e si lavora per tornare alla normalità, anche in vista della riapertura delle scuole il 12 settembre. La Giunta regionale intanto delibera uno stanziamento di 3 milioni e mezzo che saranno messi a disposizione per gli interventi di maggiore urgenza, come quelli per gli edifici pubblici e in particolare per le scuole dei comuni lombardi che ne hanno fatto richiesta. La burocrazia è lunga e i tempi sono dilatati, ha spiegato l'assessore regionale alla protezione civile romano-la-russa. Per quanto riguarda l'agricoltura, però, la Regione intende sbloccare dei rimborsi in attesa dei fondi del governo. Sono 725 le richieste arrivate da Cremona per danni a colture, strutture e macchinari, soprattutto dal territorio da Casalmorano verso Crema e in tutto il cremasco.